Una squadra da completare, un po' di terreno da recuperare visto il ritardo con il quale è cominciata la preparazione, una piccola asperità che non spaventa Massimo Pizzulli, allenatore della Vigortrani, navigato alle difficoltà ma questa volta sicuro di poter fare un buon campionatore eccellenza così come gli è stato chiesto dai dirigenti della società Biancazzurra. Il primo giorno di raduno allo stadio comunale è anche occasione per contarsi e scoprire che mancano alcuni elementi come ammette lo stesso Pizzulli. Non abbiamo ancora preso gli attaccanti che ci sono fondamentali come io penso che poi dietro tutto sommato tra riconferme e nuove arrivi anche a centrocampo si sta cercando di fare una buona squadra, noi dobbiamo fare un buon campionato. La società è quello che mi ha chiesto, dobbiamo muoverci con oculatezza perché rispetto forse a quello che si pensava all'inizio bisogna un attimino cercare fino a novembre di ottenere il massimo dai giocatori che arriveranno e poi si vedrà se si riuscirà a fare magari un salto di qualità importante. Aspettando le prossime operazioni di mercato si dà il via alla preparazione con il gruppo già a disposizione, le intenzioni della Vigor sono chiare, provare a entrare nel gruppo delle migliori in campionato che come sotto Nia Pizzulli si annuncia difficile non solo per il valore tecnico degli avversari, Omnia Bitonto, Casarano e Corato si prendono di diritto alla prima fila ma anche perché, mai come questa volta, alla fine di luglio il mercato di eccellenza ha mosso gran parte delle pedine. Una stagione forse tra le più difficili degli ultimi anni perché comunque mi sembra che fino a fine luglio diverse squadre hanno fatto degli organici importanti quindi effettivamente sarà un anno molto, sarà un campionato molto bello dove bisognerà veramente essere concentrati partita per partita perché sarà difficile per tutti. L'Omnia forse rischia di fare anche campionato a sé per quello che sta facendo. Il Casarano, il Fasano, Corato, lo stesso Gallipoli, insomma diverse squadre si stanno muovendo in maniera imponente quindi noi siamo effettivamente un po' in ritardo per diverse vicissitudini però stiamo cercando di recuperare il tempo perso.